Ciao ragazzi, sono il vostro Galax e benvenuti in questo nuovo gameplay su Clash Royale ragazzi oggi andremo a fare una bella scalata dobbiamo andare dalle coppe 3400 per ora? no, perchè? ora dobbiamo fare solo i 2 contro 2 perchè ragazzi la scalata non la possiamo fare ma ho sbagliato, scusate scusatemi tanto oggi no perchè da poco ho finito di giocare faccio il video per fare i 2 contro 2 con il mio clan allora raga allora questo è il mio deck come vedete nei primi video mi ricordo ancora quando mi uscissi la prima no porco ho 2 ah raga questo è il mio deck da quanto non avevo leggendari ho tutte queste leggendari mi mancano solo queste 2 quindi andiamo a fare vabbè ah raga andiamo a fare con 2 contro 2 con il clan poi se non accettano facciamo il 2 contro 2 con altri giocatori nel tutto il mondo praticamente ah raga superiamo 5 impossibile superiamo i 5 like per un prossimo prossimo video raga non fanno niente vediamo con il nostro amico Antonio non risponde nessuno vabbè ecco qua abbiamo risolto tutto ah raga rispondiamo anche noi così non ci facciamo prendere dall'ansia bravissimo 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 e compagno ottimo un bel lavoro nice boom boom apposto ah raga comunque il mio deck non ve lo cioè ve lo consiglio e non ve lo consiglio perché se ve lo consiglio comunque se prendete dei deck tipo con i golem perdete di sicuro perché questo deck in molti in arena 10 cioè la valle del non ricordo in monte cinchiale non so perché hanno cambiato il nome comunque usano molto il deck con i golem ma rogo quando si viva i cazzo usano il deck con i golem e quindi ci schiattano ecco ecco ah raga comunque ho saputo quel fatto di Mike Shosha che praticamente lui ha un tumore al cuore e quindi si deve operare infatti ho visto oggi il video comunque mi dispiace molto perché comunque è il mio youtuber preferito perché fa video divertenti di FIFA 18 i viaggi di Hunter che l'ha finito poi fa Assassin's Creed Origins ha fatto altri molti giochi divertenti e belli in cui ci hanno fatto molto divertire e ringrazio molto Mike Shosha per averci fatto divertire un sacco ecco vabbè rica un pack e di mast medien no ma d'osca ecco voce mi vuole il tuo prodotto non ho fatto non ho fatto non ho fatto non ho fatto ma io si prendo il cuore, abbiamo il cuore con me abbiamo il cuore boff nooo come era la chile da boff boff erano usati a niente boff ma voglio non morì non morì non morì non morì non morì non morì morì ora fu una fu una fu un bravissimo eric s mamma bella bella partita i bella partita ma no voglio mi sento male ma perchè capita sempre 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 in live perchè capita sempre in live io non lo so un giorno oh mio dio non ci credo un giorno com'è perchè un giorno prima ah raga ma non erano 11 ore i bolle super magico non era non era 11 ore i bolle super magico com'è non era 11 ore non erano ma ah raga quindi o domani o dopo domani arriverà lo spacchettamento del bolle super magico poi ah è che non ci sono più i bolle magico oh no arriverà lo spacchetto del bolle super magico arriverà lo spacchettamento del bolle della corona e arriverà lo spacchettamento del bolle del con perchè questo video uscirà domani cioè quando voi vedrete questo video qui già ci ha bloccato un bolle del con penso quando lo so ma raga non ci credo non ci credo ah raga niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate il like iscrivetevi al canale e buona visione cioè se cosa capita per me nel video precedente non nel video perché il video precedente è proprio l'ultimo video che ho fatto ecco da la di mi pare sempre di clash royale sempre era ad agosto ti ho fatto il video bello e buono bello e buono ho aperto il bolle della corona e mi uscite il gran cavaliere ora mi uscito il bollo super magico e ti ho so e niente raga se mi piacerebbe se mi piacerebbe lasciatevi al canale buona visione ciao ah raga dimenticavo di dirvi che un attore come arrivare a call of duty advanced warfare e praticamente arriverà a un gameplay su call of duty warfare proviamo a fare una sopravvivenza arrivare all'ondata 11 e negli zombie praticamente proviamo a fare una sopravvivenza ehm ah comunque per sbloccare la materiale da zombie dovete fare una sopravvivenza ehm nell'ultima nell'ultima mappa non mi ricordo come si chiama arrivare all'ondata 10 che dopo l'ondata 10 cioè l'ondata 10 arriverà un robot l'ondata 11 arriveranno gli zombie praticamente è come fosse una storia una storia secondaria praticamente e niente lasciatevi vedere e buona visione raga ciao